Ciao amici, sono Lox, bentornati sui Fatti di Opinione di Lox, il canale per i veri malati di sport. In questo video vi parlo di ciclismo, sto infatti seguendo il Giro del Delfinato, ovvero una delle corse principali che ci porteranno al Tour de France che comincia in luglio. Una corsa spettacolare di per sé perché è tracciata molto bene, percorsi molto interessanti, tanti salicendi, ma soprattutto bella perché ci corrono tutti quelli che saranno i protagonisti della grande corsa francese tra un mesetto. Devo dire che è un po' rifarsi gli occhi dopo la delusione del Giro d'Italia, tre settimane di gara veramente noiosa quest'anno, peccato davvero perché il percorso mi piaceva molto, ma i concorrenti sia per valore assoluto sia per come l'hanno interpretato stavolta mi hanno un po' deluso. Invece questo Delfinato è partito subito forte da domenica, sono otto giorni di gara, tappe molto varie, sia tappe per velocisti ma anche tappe per attacchi da lontano, tappe, le ultime tre, con arrivi anche in salita piuttosto seri e poi la cronometro di ieri. Il grande protagonista è Jonas Vingegaard, ovvero il danese che dovrà difendere il titolo al Tour de France col portacolore della Jumbo Visna che sta correndo benissimo. Era stato tra i migliori nelle prime tappe, ieri a sorpresa è stato beffato dal connazionale Bjerg della UAE che ha fatto una cronometro strepitosa cogliendo il suo primo successo tra i professionisti in una cronometro, ma oggi Vingegaard si è ripreso quello che ieri non era riuscito a ottenere, ovvero si è preso la maglia gialla, si è ripresa attaccando a 14 nella salita posta a una quindicina di chilometri dal traguardo, è partito insieme a Carapaz che si è leggermente riscattato dalla delusione di ieri a cronometro ma alla fine poi ha pagato molto rispetto a Vingegaard, Vingegaard poi è stato strepitoso nella discesa e negli avallamenti fino al traguardo non venendo mai ripreso e soprattutto non concedendo nessuna possibilità a tutti gli altri capitani delle altre squadre che erano tutti radunati nel gruppetto dietro. Vingegaard ora prende la maglia, è il nuovo leader della classifica, un Vingegaard che mi sembra in forma strepitosa, il suo grande rivale Pogacero in questo momento si sta ancora allenando perché ricorderete il suo infortunio alla Liegi, ora in altura si sta preparando, vedremo se riuscirà a essere in forma, se riuscirà a essere competitivo contro un Vingegaard di questo livello che attualmente sembra veramente di un altro pianeta. I concorrenti, i concorrenti fino ad ora nessuno devo dire mi ha completamente convinto, alcuni stanno facendo delle buone prestazioni, alcuni hanno già avuto alcune cadute dal punto di vista delle prestazioni, soprattutto su tutti, Godot che è la grande speranza francese per tornare finalmente a vincere un grande giro, o quantomeno dare la possibilità di essere in lotta per vincerlo, Godot invece ha fatto molto male ieri a cronometro e ha fatto abbastanza male anche oggi dove è rimasto staccato e non è stato certo protagonista e a meno di un mese dall'inizio del Tour la sua condizione di forma va quindi tenuta un po' sotto osservazione perché sembra lontano parente di quello che può essere molto protagonista. Tour de France tra l'altro quest'anno che ha pochissimi chilometri a cronometro, una sola di poco più di 20 chilometri, quindi l'impatto maggiore sarà dato dalle tappe di montagna più che della crono, anche se bisogna dire che ieri Vingegaard in una crono di una trentina di chilometri ha saputo dare distanze siderali di vantaggio ai vari Carapaz, Bernal piuttosto che lo stesso Landa che anche questa volta mi appare un pochino in difficoltà, un pochino lontano dal meglio. Quindi Vingegaard in forma anche solo in quella ventina di chilometri della tappa cronometro del Tour potrà magari già dare grandi vantaggi. Bernal in questo suo ritorno dopo il tremendo incidente dello scorso anno, devo dire che mi sta abbastanza convincendo, ieri a crono ha preso una brutta paga, per oggi è partito anche al contrattacco, ha cercato di essere staccato dal gruppo cercando di andare a riprendere Vingegaard e non mi è dispiaciuto. Lo trovo in una buona forma, credo che se procede così potrà partecipare per noi tutto al Tour e potrà anche essere un buon protagonista. Carapaz, luci e ombre, cose buone come l'altro giorno quando si è fatto la volata ed è stato beffato alla fine dalla Philippe, però oggi era partito bene, aveva tenuto per un po' il ritmo di Vingegaard, ma poi non ce l'ha fatta e ha finito staccato. O'Connor mi sta abbastanza convincendo, il corridore dell'Age mi è piaciuto abbastanza, secondo posto in classifica, più di un minuto di ritardo, mi aspetto qualche attacco anche da lui nei prossimi giorni per dimostrare ancora la sua potenza. Poi invece Ciccone, Ciccone per i colori azzurri, ieri male a cronometro, oggi però una buona azione sulle rampe dell'ultima salita, è rimasto lì nel gruppo dei migliori, l'ha tirato anche un pochino dopo che Vingegaard aveva attaccato, un Ciccone che trovo con una gamba interessante che magari qualcosa di buono potrebbe fare. Uno dei corridori che mi ha più convinto in questo inizio di Delfinato è sicuramente Herregots, questo belga che il primo giorno avrebbe strameritato successo perché ha fatto un'azione fantastica, era in fuga, poi è scattato anche rispetto ai compagni di fuga, è stato raggiunto veramente a un passo dal traguardo, arrivando terzo, in una tappa poi vinta dalla Porte, e lo direi Herregots è anche oggi la prima tappa nella quale ha perso un pochino più le distanze perché anche a cronometro ha fatto un buon lavoro ed è uno dei corridori che sicuramente mi è piaciuto di più. Niente male anche Indley, alla Philippe molto combattivo, molto competitivo, oggi penso credesse potesse, credesse, avesse intenzione di essere più protagonista, ma poi sulla scalata finale si è staccato subito, poi è stato bravo comunque a ricongiungersi, arrivare secondo, poi regolando lo sprint, Yates ancora lì un po' nell'ombra, in una UAE che aveva poi preso la maglia con Birg, oggi Birg è stato bravino, bravo nel comunque difendersi, poi ha commesso un errore scivolando nell'attacco proprio della salita finale e dopo è stato impossibile per lui cercare di rimontare. Ora però abbiamo le tre tappe più difficili e quindi vediamo quanto questi giudizi iniziali di queste prime tappe verranno confermati, sicuramente quello che posso dire è spettacolare, davvero riconciliante con il ciclismo seguire questa manifestazione, perché si vedono azioni, si vede voglia di lottare, questa salita è stata presa subito all'arrembaggio, alla prima curva c'era già qualcuno che era andato, davvero dopo quell'attendismo noiosissimo del Giro d'Italia ci voleva proprio questa boccata d'aria fresca. Fatemi sapere ragazzi un po' anche per voi le emozioni, chi vi è piaciuto, chi non vi è piaciuto, su chi puntate per il resto di questa manifestazione, soprattutto pensando che in ottica tour e davvero un Vingegaard così rischia di mettere già la parola fine alle possibilità di poter assistere a una gara interessante e combattuta tra un mese al Tour de France. Grazie ragazzi, iscrivetevi al canale, ancora ciclismo nei prossimi giorni, un bacio alla prossima e ciao a tutti da LOX.